Musica Cari spettatori, buongiorno. Nuova edizione della TG Mattina. Bentrovati. Oggi è martedì 9 luglio 2024. Santa Letizia, le prime pagine dei quotidiani. Novara viceo della stampa violenze nella setta delle beste. Il PM chiede 230 anni di carcere. Per i 26 imputati le richieste di condanna vanno dai 7 ai 12 anni. Rovinate tante vite. Nel 2020 scoperti incontri sessuali di gruppo, abusi e torture in un casolare nei boschi di Cerano. E poi invece una bella pagina di sport. Elisa Longo Borghini. Ieri ha difeso la maglia rosa. Oggi c'è la salita. È l'ora della verità al giro. Giunta di Novara. Prove di rimpasto. Fratelli d'Italia vuole De Grandis vice. Serve una donna in squadra. A Palazzo Cabrino. Ieri l'incontro con i rappresentanti della maggioranza. Il sindaco Canelli aspetta indicazioni dei partiti. Ipotesi di cambio delle deleghe. E poi c'è il Consiglio regionale che si insedia il 22 luglio. Ci sono stati ricorsi e rinvii da sciogliere i nodi sulle proclamazioni. In aula esplode il caso dei gresti estivi. Il PD all'attacco. Pochi e troppo affollati. Novara e il Comune replica. Tante richieste. Abbiamo fatto il possibile. Ancora pareri discordanti tra il PD e la giunta attuale. L'addio di Cannavacciolo. Una sconfitta per la città. Questo è il parere di Andrea Ballaré. Ex sindaco di Novara. All'epoca avevamo fatto uno sforzo per portare la città fuori dal cono d'ombra di Milano. L'ex sindaco a tutto campo. Dopo la chiusura del bistrò del Teatro Coccia. L'amministrazione ha ridotto la capacità di proposta a livello nazionale. Restano solo le mostre. Concorso per il dirigente all'urbanistica. Vince un esterno. Protestano gli esclusi. Solo in tre su 61 hanno concluso l'Iter. Il secondo e il terzo sono interni. E poi il vecchio Novara Calcio. Deserta la prima asta per le coppe e i cimeli. Sull'otto c'è una prelazione del Comune decisa dalla sovrintendenza. Ora può sperare di aggiudicarseli. Nessuna offerta anche per il marchio. Giudicati invece all'attuale club, gli arredi dell'area dove sorgerà il museo. E poi Andrea Amalberto. È eletto presidente degli industriali piemontesi. A 56 anni è astigiano. Violenze nella psicosetta di Cerano. Richieste condanne per 230 anni. A Novara i 26 imputati devono rispondere di riduzioni in schiavitù e abusi sessuali. L'APM hanno rovinato delle vite. La richiesta più alta per le organizzatrici. Una era la moglie del capo che è morto nel 2023. Giulia chiede mezzo milione per i danni subiti. La ragazza all'epoca minorenne ed ora testimone chiave. Trovato a trecate dopo le coltellate al nuovo ragazzo della sua ex fidanzata, è stato ritrovato a trecate in casa di un amico. Il patron del pro Novara assolto dalla bancarotta del Vigevano Calcio, Paolo Pugliese, davanti alla Corte d'Appello di Milano. A trecate l'operazione dei carabinieri rubava batterie dei ripetitori. Un ladro è arrestato insieme alla moglie. Varallo Pop, quattro serate con rock, rap e ritmi latini tra gli ospiti. Mondo Marcio, da giovedì a domenica in frazione Cascinetta, Varallo Pombia. E poi ci spostiamo nel Verbano Cusiossola con la ripartenza di Macugnaga. Impianti aperti e torna lo sci nel fine settimana discese sul pendio del Moro. Il sindaco, adesso i turisti, vengano da noi. Ieri incidente per una motociclista del Varesina ha sbandato sulla superstrada che collega Mergozzo a Ornavasso in codice rosso. è stata trasportata con l'elisoccorso. Verbania, Consiglio Comunale, De Ambrogi alla Presidenza. Il Partito Democratico trova l'accordo sulla segretaria provinciale che lascerà l'incarico politico. Giovedì verrà eletta al primo tentativo sufficienti voti della maggioranza del gruppo Brezza. Riunione non registrata. Aghifa, Brocca, Attacca Lanino. Lettera al prefetto per il mancato rispetto della procedura. Addio a Titta, l'alter ego di Fellini, diventato ortolano in osso. L'attore Bruno Zanin aveva 73 anni. Aveva conosciuto la celebrità con Amarcord. Da tempo viveva in una baita avanzone San Carlo. Verbania, falsa identità per sfuggire al controllo e denunciato dalla polizia. E poi Omenia, la musica era troppo alta. Adesso chiediamo i danni. I titolari dell'hotel Croce Bianca protestano per i Summer Games. La mostra di Domodossola è un viaggio nella bellezza. Nuova esposizione a Palazzo San Francesco dal 18 luglio al 12 gennaio. E poi l'intesa tra Yacht Club, il verbano Yacht Club di Stresa. Ha stretto un gemellaggio con la Compagnia della Vela di Venezia. E' tornato libero il griffone che non volava più a causa di un'infezione all'Alpe Lusentino. E poi ancora musica con Stresa Festival. La musica di qualità ha anche un'anima green. L'edizione 2024 inizia il 16 luglio con il concerto di Egberto Gismonti. A Borgomanero ancora tutti in pista con Ronnie Jones. Domani alle 21 alla Marazza il concerto dell'artista ultraottantenne. L'ingresso è libero. Palco e platea sono nel cortile dello storico edificio. Musica e aneddoti per scoprire i segreti delle ville sul lago. A Giffa, al Museo del Cappello, l'incontro tra romanticismo e liberty. Stasera gli studiosi Minocce Poletti si alternano con il violinista Francesco Facchini. E poi la metamorfosi della Cina in mostra al forte di Bard. In 70 immagini dei fotografi par e reboud. I cambiamenti del paese a partire dagli anni 50. Irene Grandi, strega a rock sul palco nato nell'ex cava. Sabato, al Tons Teatro Natura, all'opera The Witch's Seed, tratto da storie vere di inquisizione. Le musica sono di Stuart Cobelland, fondatore dei Police. E in scena anche 15 ballerini acrobati. E ancora, prima di passare ai nazionali, lo sport. Longo Borghini resta rosa. Oggi primo esame in salita. Il giro femminile ieri ha chiuso nona in volata sul traguardo di Volta Mantovana. La terza tappa arriva sull'Appennino Reggiano. Non credo che tra le big ci saranno grandi distacchi. Al Novara, a centrocampo, arriva a basso dall'Ancona. Per quanto riguarda il pugilato, Ivan Zucco vince in Spagna per KO due riprese. E poi si è conclusa sul diamante del Provini la competizione internazionale. Il secondo posto degli azzurri alla Little League. Novara si conferma capitale del baseball giovanile. Ed ora i nazionali. La prima pagina della stampa. Putin, un messaggio all'Europa. Probabilmente il peggiore messaggio che avrebbe potuto mandare. Mentre Orban tratta col Cremlino e nasce il gruppo dei patrioti filorussi. Mosca bombarda l'ospedale infantile di Kiev, causando 36 morti. Ma bombe anche in altre zone dell'Ucraina. Tutto questo porta a prendere delle decisioni serie e convincenti per contrastare tutto questo. Il messaggio all'Europa di Putin ha scosso ovviamente tutti i leader europei. Immagini spaventose, così vengono dichiarate da Meloni e USA e Nato dichiarano. Rafforzeremo le difese aeree dell'Ucraina. E poi i 75 anni dell'alleanza con i due problemi chiave per il futuro della Nato. E due anche grosse incognite. Il ritorno di Trump e il ruolo dell'Ucraina. Macron, il piano anti-Melencioni. Il presidente conferma a tempo a tale punta una coalizione senza l'estrema sinistra. L'ipotesi Holland, le difficoltà a formare un governo, le penne isolata. Pensa all'unione con i repubblicani. Bardellà, ho delle colpe. Dunque i problemi interni dei vari paesi si riflettono poi sull'unione e sull'unità di pensiero dell'Europa che in questo momento sta scricchiolando notevolmente. Corriere della Sera, la Francia scossa, Macron blinda il primo ministro. Ma vediamo le immagini drammatiche. Da Kiev, bombe su tutta l'Ucraina, oltre 30 vittime, missili rusti sull'ospedale dei bambini. Orrore a Kiev, almeno 40 i missili lanciati da Mosca, colpiti l'ospedale pediatrico e una clinica ostetrica. Decine di morti e feriti si scava ancora per liberare chi è rimasto sotto le macerie. Tajani dichiara è un crimine di guerra. Zelensky va a Varsavia per l'accordo sulla difesa aerea. Dunque è un momento questo davvero molto drammatico in cui da qualsiasi parte si guardi ci sono problemi grossi da risolvere e ripeto delle decisioni da prendere al più presto possibile. Italia Oggi parla del bonus RES che è ricerca e sviluppo con 5 condizioni per attivarlo. Il sole 24 ore, anche qui si parla della politica francese e poi il labirinto di transizione 5.0. Servono 8 documenti per il credito di imposta. Ma nella foto ci avviciniamo alla nostra città, il gruppo De Agostini con il riassetto più poteri alla quarta generazione. Nella foto di famiglie rappresentati dalla terza, quarta e quinta generazione degli azionisti Drago e Boroli del gruppo De Agostini. Fiore all'occhiello della nostra città che trova anche l'eco del pagine nazionale del sole 24 ore. Andiamo a vedere quale sarà la situazione del tempo. Oggi e domani poco nuvoloso, 21 gradi la temperatura minima, 32 gradi la temperatura massima. È tutto, vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Grazie.